Musica Verranno sentiti tutti i componenti della Guardia di Finanza che hanno fatto le indagini a seguire le persone offese e poi inizieranno ad essere sentiti tutti i testi della difesa. Tutto rinviato al prossimo 17 maggio, quando si entrerà nel vivo del processo con l'audizione dei primi testi della Procura. Si è conclusa così l'udienza di questa mattina, celebrata presso il Tribunale di Arezzo, del processo per truffa carico di 37 imputati, tra funzionari, dirigenti, direttori di filiale della vecchia Banca Etruria, accusati a vario titolo di stigiazione alla truffa e truffa aggravata. Si poteva immaginare un rinvio, effettivamente il rinvio c'è stato perché c'era una serie di problematiche rispetto ai termini di difesa chiesti da tutti i difensori. In qualche modo la riunione dei procedimenti ha portato a un dilatamento della tempistica, quindi attenderemo ora tutte le udienze calendarizzate per svolgere quella che è l'istruttore dibattimentale. Con l'udienza di questa mattina, di fronte al giudice Angela Avila, sono stati ufficialmente riunificati tutti i procedimenti per truffa, un accorpamento che ha portato alla richiesta di termini a difesa da parte dei legali degli imputati, per poter così consultare gli atti dei fascicoli che sino ad adesso facevano parte di altri procedimenti. Perché ad oggi abbiamo tutti visione dei fascicoli nei quali assistiamo varie persone imputate, ma non avevamo una visione complessiva e non abbiamo una visione complessiva di tutti i fascicoli che compongono attualmente l'unico procedimento riunito. Nella prossima udienza, fissata per il 17 maggio, saranno ascoltati 11 testi di polizia giudiziaria, ufficiali e sotto ufficiali della Guardia di Finanza che hanno condotto le indagini. Il 24 maggio e il 4 giugno sarà invece il turno delle persone offese in tutta una trentina di testimoni. Sono persone che hanno perso praticamente i risparmi di una vita e quindi che vivono con molta attenzione e anche con la giusta e comprensibile apprezzione. È un processo che comunque vede avvicinarsi la prescrizione e che sperano possa portare a perlomeno un accertamento di responsabilità sulle singole posizioni dei singoli imputati, dei singoli capi di imputazione contestati e sicuramente a un risarcimento dei danni.